Clamorosa ritratazione del reo confesso dell'omicidio della rumena alcamese scomparsa nel 2015 Ruxandra Vesco. Damiano Torrenti ha fatto marcia indietro su tutto nella serata di ieri quando ha dichiarato agli inquirenti non sono stato io dopo che appena qualche ora prima si era presentato sua sponte nella stazione dei carabinieri Falde di Palermo per dichiararsi colpevole dell'assassino della 33enne indicando ai militari il luogo dove avrebbe potuto trovare i resti della donna e dove furono effettivamente ritrovati in via Monte Erta. Io sto passando un periodo difficile, non sono stato io ad ucciderla quando ho confessato ero sotto effetto di stupefacenti ha dichiarato Torrente al procuratore aggiunto Ennio Petrini e al sostituto Felice De Benedettis. Il mistero quindi si infitisce e rimane da capire a questo punto quale delle due versioni sia vera. Gli accertamenti scientifici ora dovranno stabilire se i resti umani fatti trovare dall'indagato sul monte Pellegrino appartengano effettivamente a Ruxandra. In suo sfavore di certo c'è il fatto che malgrado sotto supposta influenza di droghe il luogo del ritrovamento dei resti di cadaver è risultato assolutamente veritiero e preciso. Torrente infatti aveva raccontato una storia molto dettagliata e ricca di particolari e con un movente. Scarcerato nel marzo scorso dopo l'arresto per stalking l'uomo ha spiegato ai carabinieri di essersi avvicinato a Dio e che per questo motivo non poteva più stare in silenzio decidendo così alla fine di consegnarsi alla giustizia. Malgrado il repentino cambio di versione dell'uomo Torrente rimane comunque indagato per omicidio e occultamento di cadavere.